Buongiorno, benvenuti anche in questa insolita location perché è la prima volta che facciamo una conferenza qui. Siamo molto contenti di presentare il programma per il Natale di Roma. Qual è il dato nuovo che ci ha ispirato? Il Natale di Roma si celebra da svariati anni, però per troppo tempo è rimasto un evento sostanzialmente un po' chiuso al proprio interno. Noi riteniamo che sia una festa importante per la città e riteniamo che la città inizi a partecipare a questo evento, a questa festa, capendo che è un giorno importante per Roma. Per fare questo abbiamo voluto iniziare a far sì che la cittadinanza potesse avere degli eventi e dei momenti che celebrassero questa giornata. Tra l'altro devo dire che la nostra idea è quella di una festa diffusa, una festa su Roma, una festa di piazza e in questo ci ha aiutato un po' il successo di quella che è stata la festa di Roma, il capodanno che abbiamo festeggiato tra il 31 e l'1 gennaio quando abbiamo chiuso completamente anche via Petroselli al traffico e abbiamo incontrato tanti cittadini che commossi ci dicevano finalmente avete restituito Roma ai suoi cittadini. Quindi da questo commento, anche i ringraziamenti che abbiamo ricevuto ci è venuta l'idea di provare a replicare chiaramente in piccolo quell'esperimento e quell'esperienza e abbiamo voluto sostanzialmente costituire un contenitore particolare, nuovo di eventi che partisse dal 20, 21 e 22 aprile per culminare il pomeriggio del 22 aprile con una serie di eventi prettamente culturali da svolgersi prevalentemente su via Petroselli restituita per un giorno alla cittadinanza quindi completamente pedonalizzata e della quale poi vi racconteremo bene il programma e abbiamo voluto farlo cercando di iniziare a costruire una vera e propria tradizione della festa romana per celebrare il proprio Natale. Questo chiaramente per noi è un momento importante nel quale la città inizia a riconoscersi intorno a un elemento identitario proprio ed è una sorta di avvio di un nuovo esperimento, possiamo dire a noi piace sperimentare, mettiamola così, per cui ci vengono delle idee e ci fa piacere iniziare a proporle alla cittadinanza e vedere cosa ne viene fuori e mi sembra che fino adesso tutte le nostre sperimentazioni abbiano prodotto degli ottimi risultati quindi questo ci induce a replicare quelli che sono i momenti positivi e a condividerli perché continuiamo a ritenere che una città che sia considerata più che la propria città, la propria casa sia il modo migliore per far sì che i cittadini sentano Roma come cosa propria e inizino a rispettarle, ad amarla come questa città merita allora io saluto, ho invertito un po' l'ordine delle cose ma ci tenevo un po' a raccontare e a fare questa introduzione prima di lasciare poi magari la parola agli altri io saluto il Vice Sindaco Luca Bergamo che ci ha aiutato in questo percorso sperimentale per creare questa festa di Roma per i cittadini saluto la Presidente della Commissione Cultura Eleonora Guadagno saluto il Sovrintendente della Fondazione del Teatro e dell'Opera Carlo Fortes che è qui con noi saluto l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma José Dosal saluto il Direttore del Teatro di Roma Antonio Calbi saluto la Presidente di Zetema Francesca Iacoboni saluto il Sovrintendente, l'ex Sovrintendente che vedo il giù che comunque ci ha dato una grande mano per continuare a lavorare su tutto il programma che quindi vedrà degli eventi in piazza, vedrà i musei capitolini aperti e gratuiti vedrà anche la riapertura annuale ma che insomma viene fatta coincidere con questa giornata la riapertura del roseto comunale che sarà aperto fino ai primi giorni di giugno e che vede oltre mille varietà di rose botaniche anche antiche quindi andatelo a visitare è veramente un'esperienza interessante che veramente coinvolge tutti i sensi e io devo dire concludo qui non entro nel dettaglio degli eventi che sono veramente tanti e peraltro di connotazione molto diversa quindi ci saranno spettacoli di musica, di teatro ci sarà il gruppo storico romano con rievocazioni storiche che coinvolge oltre 1500 persone che vengono da tutta Europa ci saranno eventi veramente multiformi e per tutti l'invito che faccio ai cittadini è quello di ricominciare a vivere queste piazze questi luoghi per riappropriarsi della propria città perché la città è nostra e quindi come dire dobbiamo celebrarla ogni giorno ma tanto più il giorno del Natale di Roma grazie a parte questo microfono messo qui da un po' sigillato intanto una cosa da dire perché poi nel suo understatement la sindaca è la sindaca che ha chiesto a noi di provare a immaginare come una festa che è stata vissuta in un modo come dire un po' privato in gran parte sconosciuto ai cittadini potesse diventare una festa popolare una festa civica e per la verità ci ha spronato molto noi sappiamo, scusatze non petita, accusatze manifesta sappiamo che lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno per rispondere al suo invito è iniziale abbiamo cominciato a capire come una celebrazione che si porta appresso una sua storia un modo di funzionare un po' aulico e riservato possa trasformarsi in una festa popolare un po' per volta non cancellando la connotazione di ciò che c'era prima ma aggiungendoci delle cose che sono anche molto eterogenee rispetto alle precedenti e il prodotto che ne è venuto fuori che è il risultato di una collaborazione molto stretta tra l'ufficio di Gabbietto e il sindaco e l'assessorato della cultura ma soprattutto le istituzioni culturali che sono qui rappresentate e la sua intendenza capitolina rappresenta il prodotto interessante di questo esercizio come diceva la sindaca voi trovate in cartellina stampa un racconto delle attività, degli eventi che sono numerosi e il programma definitivo sarà pubblicato a breve sul sito del Comune di Roma ma informo che non lo è ancora perché ci sono alcune manifestazioni che contribuiscono alla programmazione che stavano finendo gli ultimi dettagli abbiamo preferito pubblicare tutto quanto insieme piuttosto che un pezzo alla volta è diviso, si articola in tre giornate con attività che investono fortemente e qui nuovamente ringrazio la sovrintendenza capitolina il sovrintendente Parisi-Persicci e i suoi collaboratori i musei civici nella giornata del 20 poi nella giornata del 21 e del 22 il 21 è anche la giornata delle attività più tradizionali celebrazioni ma come vedrete poi nel programma ce ne sono molte altre completamente nuove il 22 è viceversa l'elemento più visibile, più percepibile di innovazione che nasce dalla volontà di dare una risposta seppur parziale a quella domanda che molti cittadini hanno fatto alla sindaca poi l'ho fatta a lei, io ero vicino ci hai restituito la città in alcuni casi con una chiara commozione da parte delle persone ne vogliamo ancora ovviamente lo sforzo organizzativo, economico un progettuale necessario per organizzare il Capodanno non poteva essere replicato per fare la stessa scala nella celebrazione quindi abbiamo cercato di trarre da quell'esperienza tutto ciò che si poteva applicare nella chiusura parziale di via Petroselli che diventa di nuovo una specie di grande piazza popolare che è animata dalla programmazione culturale delle istituzioni che sono qui rappresentate adesso non voglio citare nessuno perché se no mi diventi qualcuno non cito qualcun altro diventa che è realizzata grazie alla capacità organizzativa e al supporto di Zetema quindi con un formato che abbiamo già messo in atto e in precedenza il 22 ospicando ovviamente i favori di Giove Pluvio che appunto non flu è una giornata che vede impegnata diciamo lo spazio pubblico della città e con la fortissima l'iniziativa popolare fortissima del gruppo storico romano che conoscete è stata già presentata mi pare ieri c'era anche la Presidente Guadagno della presentazione e poi questa programmazione che avviene nel pomeriggio a partire dalle 14.30 su Via Petroselli in tra tutte diciamo le iniziative ce ne sono alcune diciamo sorprendenti del loro modo e mi interessa sottolineare un elemento in questa circostanza ve ne è una che grazie alla collaborazione del Maxi ed è legata anche alla Biennale di Venezia al padiglione francese la Biennale di Venezia lavora sulla sull'editto non sono che poi non è uditto ma di Marco Aurelio Severo Antonino Augusto questa è l'esattezza diciamo dizione di Caracalla che dice diamo a tutti i viandanti che sono nel mondo la cittadinanza romana e il diritto a migrare ovunque vogliano per diretta via e senza impedimento eccetto coloro che visibilmente congiurano contro l'umanità e la comunanza del genere umano nella nella storia di Roma nella storia di Roma a cui no come noi lavoriamo oggi tutti i giorni penso al lavoro che fa Laura Baldassarre questo spirito profondo di di accoglienza di di rispetto di confrontarsi con le culture diverse cercando di cercando sempre di rispettare la dignità umana è una nota che fa parte della storia della città ha avuto anche diciamo vicende molto alterne nel corso della storia della città che però noi con questa celebrazione popolare vogliamo vogliamo restituire vogliamo riaffermare è una carattere questa questa città molto forte difficile da affermare ogni giorno perché le pressioni dei fatti reali delle circostanze degli strumenti a disposizione delle tensioni lo rendono difficile però è un carattere connotante sottolineo questa cosa perché in realtà quando la sindaca ci ha chiesto di fare questa festa qui di trasformarla in una festa popolare ci ha anche chiesto una cosa molto precisa è di ricostituire progressivamente quello spirito di comunanza che si era generato nell'esperienza vissuta durante il capodanno perché quello è un carattere connotante di questa città perché questa città ha la forza di essere un posto in cui le persone vivono insieme e si riconoscono grazie anche al godimento della qualità architettonica urbanistica che ci ha consegnato al passato se noi riusciamo a farla vivere nel presente attraverso una vitalità culturale che è diffusa e quindi un po' in parte con il primo tentativo è appunto il Natale di Roma l'abbiamo voluto spostare dalla sfera di un racconto di una memoria antica e cercare di farlo tornare come festa della città il suo compleanno ma il suo compleanno dandogli questa connotazione cioè una città di persone non solo di oggetti e io concludo questo sproloquio ringraziando nuovamente la disponibilità delle istituzioni culturali degli uffici del Comune di Roma in tutte le loro articolazioni perché di nuovo ancora in questa circostanza il lavoro che facciamo è quello di provare a mettere a sistema ciò che è stato costruito nel corso degli anni ma è rimasto spesso non separato e senza un'interpretazione unitaria e invece creare dei contenitori in cui un'interpretazione o significato possa essere dato e si lavori insieme collaborando io credo che adesso la parola sia al Presidente dell'Onore Guadagno quindi non so se lascio il posto non so funziona ok allora Roma Caput Mundi era come le popolazioni lative esprimevano si esprimevano riferendosi a Roma Capitale proprio per riscontrare l'importanza assunta a livello globale insomma da questo impero quello che riscontriamo è che sono passati centinaia di anni dalla caduta dell'impero romano d'Occidente e d'Oriente e nonostante questo è davvero straordinario riscontrare come in realtà la cultura romana sia viva e presente nella vita quotidiana di tutti noi e trovo assolutamente un'occasione da non perdere il Natale di Roma per come occasione in cui rivivere le nostre ladici la nostra storia riscoprire anche aspetti che magari solitamente ignoravamo di tutta l'eredità che ci hanno lasciato ci hanno lasciato veramente talmente tanto che ancora oggi abbiamo molto da imparare sia a livello politico che giurisdizionale che in qualsiasi ambito dallo sport all'alimentazione alla medicina e un po' l'occasione di anche di queste associazioni che portano avanti quella che è la riavocazione storica è di trasmettere quella che è la memoria di un'eredità passata che è immateriale e materiale come vedete diffusa su tutta la città di Roma quindi per questo noi ci teniamo come diceva la sindaca che questo evento veramente sia vissuto in maniera trasversale da tutta la città per cui tutte le istituzioni culturali qui presenti si sono impegnate attivamente con passione proprio per rendere questo possibile nei vari ambiti culturali e artistici e veramente il Natale di Roma è un'occasione appunto per riscoprire quelle che sono riaffermare il nostro senso di appartenenza una storia che è comune a tutti noi ma anche riscontrare come poi questa appartenenza non leghi solo la città di Roma perché poi negli anni vediamo e speriamo sempre che possa crescere sempre di più questo evento c'è una partecipazione non solo a livello di città o a livello nazionale ma a livello internazionale perché sono molti i paesi che partecipano vengono qua proprio per riscoprire quella che è la realtà dell'impero che è stata la realtà dell'impero romano che ha permesso di fondare tutte le città principali a livello internazionale e è una eredità bene comune è una risorsa dell'umanità e questo lo riscontriamo anche proprio nella riscoperta del valore anche dei monumenti proprio tramite il passaggio della consapevolezza culturale del valore dell'eredità storica sia anche un apprezzamento verso quello che è il bene comune rispetto del bene comune che sia storico o anche spazi comuni di cittadini e sicuramente un altro passaggio importante è la pedonalizzazione insomma di via Petroselli che ci consentirà di riappropriarci di una parte di città e di viverla in maniera sociale ecco volevo ringraziare veramente tutti quanti la sindaca l'assessore tutto l'assessorato e tutte le istituzioni culturali e invitare tutti i romani veramente a venire a festeggiare lo spirito di comunità e senso d'appartenenza che poi ci lega nelle radici di questa festa grazie il microfono deve viaggiare un po' verso Carlo Fortes nel frattempo ne approfitto per diciamo ringraziare la presenza Emanuele Begranco presidente del Teatro di Roma e anche Remo Tagliacozzo che è amministratore legato di Zete ma con la sindaca avevamo concordato che nel primo giro fosse uno solo per l'istituzione per non fare uno squilibrio Carlo l'opera è un prodotto italiano che gira il mondo però come dire raccontato al mondo mi fa venire in mente cosa che noi spesso ci dimentichiamo è che tutte le capitali europee erano città romane questo no? e la diciamo le fondamenta della cultura europea sono romane nel celebrare questo genetilioco ricordarsi quanto quella cultura e quel percorso hanno determinato la nascita di un concetto che si chiama Europa che è emerso forse è utile e sarebbe anche apprezzabile che sebbene questo non sia una notizia perché non è recente venisse preso come tale cioè fatto da ricordare grazie a questo riguardo ovviamente i programmi che avete dettagliati nella cartella riguardano tutta l'Europa ovviamente non sono programmi di musicisti italiani e bass autarchici ma io volevo dire volevo dire che abbiamo fatto un grande sforzo abbiamo aderito un grande piacere a questa manifestazione per la prima volta il teatro del plopera festeggia il Natale di Roma in questo modo è un grande sforzo perché ovviamente si aggiunge all'attività che noi facciamo in teatro saranno coinvolti circa 150 artisti tre complessi il coro femminile che sarà a Ostia il coro di voci bianche che farà più concerti a Via Petroselli e l'aiuto orchestra in particolare il complesso di Ottoni che sarà anche anche essa a Via Petroselli il programma lo trovate in cartella quindi non vi tedio il tempo non è lungo volevo dire questo volevo dire che credo che come metodo questo del coinvolgimento delle istituzioni nelle diverse feste della città diciamo l'esperimento principale è stata la festa di Capodanno sia un metodo molto molto importante che sta funzionando e devo dire una cosa non è solo quello che i teatri e le istituzioni che rappresentiamo danno alla città di Roma ma è anche il contrario nel senso che è molto importante credo che le istituzioni che per esempio il teatro dell'opera escano al di fuori del teatro dell'opera che incontrino una città in forme che non sono quelle canoniche stereotipate che conosciamo degli spettacoli non dimentico mai che il sostegno che il comune dà al teatro che viene dato da tutti i cittadini ovviamente di questa grande massa di cittadini solo alcuni sono privilegiati che vengono in teatro quindi credo che ogni forma che riesca a portare il nostro lavoro al di fuori del teatro sia veramente importante è una forma anche di legittimazione sociale di quello che stiamo facendo ed è una forma di promozione del nuovo pubblico molto importante quindi non sono frasi di circostanza credo che veramente non sia soltanto un favore tra virgolette che facciamo all'amministrazione e alla città ma che sia invece anche un grande ritorno per il teatro e per in generale le istituzioni culturali grazie grazie siamo assolutamente convinti che il meccanismo sia un meccanismo diciamo di rigenerazione della funzione delle istituzioni culturali darei la parola a José Dosal dando anche magari un dato il numero di eventi che si svolgerà nell'arco delle tre giornate arriva intorno ai cento stiamo finendo di contarli quindi pensate l'anno scorso diciamo eravamo nell'ordine dei tre e quattro il salto è cospico prego è una sperimentazione sì infatti a forza di sperimentare ci vorrà cura ricostituente e parlando di questo numero Luca veramente con grande piacere che la fondazione musica per Roma partecipa in questa festa è un festeggiamento è un compleanno della città diceva la la capoguadagno che è il compleanno della città nonostante il suo tanti anni e la lunga importante storia si mostra al suo cittadino ancora giovane stimolante è vibrante capace di organizzare una festa che questo anno come diceva Luca adesso è più ricca di appuntamento e io lo dico questo come straniero come autotransformato romano so che non l'ho detto con proprietà però quello è il concetto che voglio esprimere autotransformato romano che vive a Roma di due anni questa città ha un carisma un fascino una magia che non ha nessun'altra e dobbiamo preservarla a tutti i costi Roma è la città è la città eterna Roma è una maniera di vivere un atteggiamento vitale solo quello che abita a Roma puoi sentire il sortilegio puoi sentire Roma l'auditorno ha deciso di unirsi a questa iniziativa di una maniera diciamo variata olistica andiamo a coprire tanto genere di musica rock pop jazz pop folk anche a piazza petro sagli porteremo l'orchestraccia che come tutti sappiamo sta composta di gentaccia e andiamo ad andare veramente a questo bellissimo gruppo intenerante di folk rock composto di romanità di spirito davvero romano con marco coni di eduardo pesce luca angeletti ilaria spada giorgio d'alesio e tanti altri che porteranno un po' di questo spirito romano alla gente di Roma e di musica popolare parliamo questa volta abbiamo deciso di portare al maestro nostro maestro ambrogio sparagna la sua orchestra popolare italiana però abbiamo messo insieme anche il coro popolare di anna rita colaiani che per me che sono di fuori è una bellezza io sempre dico e sempre ringrazio sparagna perché mi ha fatto imparare e sentire la musica popolare italiana che è la radice di questo che andiamo a vedere insieme alla città e a tutta la carica culturale che ha questa bella città e dopo per gli amanti del jazz anche nostra etichetta discografica parco della musica records ha scelto un emergente talento di un strumento che a me personalmente mi sembra difficilissimo pieno di virtuosismo che è il sassofone tutti chiamiamo la musica sappiamo quello che diventa suonare il sassofone e Simone Alessandrini della classe del 1983 sarà nonostante la sua giovenezza da noi la fondazione musica per Roma sempre abbiamo stato attenti a giovani abbiamo fatto un piccolo festival o grande festival che si chiama Retape dove abbiamo fatto lo scouting del giovane talento romano abbiamo andato a cercare il rock il pop e vedremo esibirsi a sorry Wilson alla sigarette che per me è un gruppo di vederci e tanti altri nomi come possiamo dire tutta questa gente che ha partecipato il nostro festival come Lucio Leoni Erika Mou e Micol io posso dire Luca sindaca abbiamo preparato un bel programma per celebrare insieme il compleanno di questa nostra amata Roma grazie applausi 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 adesso darei la parola a Antonio Calvi direttore del Teatro di Roma e credo di non sbagliare ma è la prima volta che si fa una conferenza stampa in questo luogo ed è ed è stato deciso di fare la conferenza stampa per il Natale di Roma in un luogo che è Roma nelle no nelle sue radici è una parte meno meno conosciuta di nuovo c'è no una volontà di diciamo confermare il significato della scelta Antonio è bellissimo la faccio ovviamente purtroppo noi stiamo in schiena grazie no sono stati gentili a lasciare il quarto milione grazie esatto rispetto all'identità di Roma dicevo è bello la faccio sindaca e assessore perché davanti al teatro argentina abbiamo un pezzo così ampio e bello abbiamo un'area sacra importante sotto è stato ucciso Giulio Cesare e abbiamo la domenica mattina deve venire una volta sindaco il nostro luce sull'archeologia che è sempre sugrito quindi Roma l'identità di Roma la sua storia in questi anni nel teatro il teatro di Roma l'ha molto curata abbiamo addirittura una sezione che si chiama Memorie di Roma cosa facciamo? facciamo inutile ripetere che abbiamo fatto due capodanni e due feste di Roma insieme e sono state delle bellissime esperienze che arrischiscono ciascuna delle istituzioni coinvolte è un dialogo importante perché fa riconoscere un sistema ricco e strutturato non solo a noi stessi non solo ai romani ma anche ai turisti noi abbiamo pensato ovviamente di animare tutta l'area con una base ovviamente di giocolerie di mangiafuochi di teatro di strada più popolare poi abbiamo scelto alcuni autori insomma importanti per l'identità romana in particolare i giochi novelli facciamo un ciclo quasi settimanale in Sala Squarzina e saranno otto attori giovani del teatro di Roma attori tra l'altro di un nostro spettacolo di successo ragazzi di vita che leggeranno reciteranno one to one o a gruppi di piccole persone dei sonetti dalla Bibbia del Belli anche ispirandosi alle persone stesse se c'è un cane in un guinzaglio lì reciteranno il sonetto dedicato al cane poi di Plauto il Mille Gloriosus adattato ovviamente degli estratti fatti per i diversi palcoscenici dell'area chiusa che è in parte la stessa della festa di Roma di Flaiano dei frammenti di un marziano a Roma poi non poteva mancare una delle icone più popolari del novecento romano che è Alberto Sordi abbiamo scoperto un'intervista di Oriana Fallaci giovane del 62 e da questo materiale è stata tratta una piccola drammaturgia sul tema del si intitola Il fidanzato e poi ancora di Cicerone alcune pillole e poi l'unica presenza nazionale ma era dovuta è quella di Shakespeare voi sapete che Shakespeare ha dedicato a Roma nel suo corpus di opere di circa 40 trattate delle commedie quattro tragedie ambientate a Roma di queste in particolare il Tito Andronico e il Giulio Cesare saranno oggetto di un lezioni spettacolo due attrici Francesca Ciocchetti in particolare che è un'attrice della nostra insomma compagnia prenderanno dei pezzi e ci entreranno dentro proprio nella scrittura di Shakespeare le altre due sono il Corogliano e Antonio Eclopatra e infine visto che siamo in via Petroselli abbiamo pensato dando di dare voce a tre sindaci del novecento abbiamo chiesto a due fratelli attori Lucia e Lorenzo Lavia di leggere degli estratti da discorsi di tre sindaci non solo di discorsi di insediamento non siamo arrivati a lei sindaca magari l'anno prossimo però tre sindaci che sono stati importanti ovviamente Petroselli Argan prima perché ricorrono i quarant'anni tra l'altro del sequestro Moro e quello era un periodo difficile e Argan l'ha gestito con grande intelligenza voglio ricordare che aveva un assessore a cultura come Renato Nicolini che aveva lanciato il meraviglioso urbano di cui noi siamo come dire una miserie diciamo come? miserie pigoni no non è vero perché invece la chiusura dei lungo temori è stata un'idea tua e notevole e in particolare voglio ricordare Nathan Enrico Nathan che è stato Ernesto scusate Nathan che è stato un signore importante perché era italo-tedesco quindi nel segno dell'internazionalità che qui abbiamo sottolineato era anche ebreo ed è una cosa curiosa che abbiamo trovato spulciando nelle determine e nelle delibere per esempio che la frase non c'è trippa per gatti viene da un documento di Nathan che aveva a che fare con un bilancio già ai tempi problematico e nelle voci di bilancio c'era una voce insolita perché evidentemente il Capidoglio aveva una popolazione di gatti notevole e c'era la voce trippa per i gatti di Roma e allora lui l'ha cancellata da quel momento non ricordo se fosse 12 è entrato nel linguaggio popolare quindi va ripristinata adesso noi abbiamo i gatti abbiamo le gattare davanti all'area sacra dell'artina che ci pensano loro quindi non stiamo chiedendo in diretta di ripristinare una voce di bilancio quindi io voglio ringraziare ovviamente tutti i nostri attori e in particolare Giacomo Bisordi che ha costruito la drammaturgia e la regia si sostituisce un po' a Fabrizio Arcuri che ha curato invece il macroevento di inizio e fine dell'anno e credo che l'intreccio la trama tra musica teatro e queste pillole un po' più impegnative ma curiose simpatiche daranno daranno viva città a un'occasione che è come dicevamo tutti è importante perché questa è la città è il più grande palcoscenico del mondo Roma Caput Mundi e io credo che possiamo dire Roma Teatrum Mundi perché ogni angolo è già teatro di per sé se poi gli diamo anche voce completiamo l'opera ci prendiamo il Caput Mundi di un milanese tanto per la parola prima di istituirla alla sindaca Francesca Iacobone che ha il compito di ereditare la capacità organizzativa dei romani in questo discorso il filrugio il tradunione allora buongiorno a tutti io vorrei iniziare prendendo iniziando con le parole con cui ha iniziato la sindaca questo non sarà più e spero non sarà veramente più un evento chiuso al proprio interno la grande bellezza di questo evento è esattamente questo ed è la cosa su cui poi vorrei spendere un pochino qualche parola in più ed è la cosa che mi rende più fiera allora Zetema si sta occupando lavoro estremamente bello non facile del coordinamento organizzativo di questa bellissima festa e lo sta facendo con tutte le istituzioni per cui altra cosa importante è che tutte le istituzioni collaborino abbiamo già visto e l'abbiamo già visto anche nell'evento dell'ultimo dell'anno che questa cosa funziona funziona molto bene e quindi è una collaborazione che si è consolidata si è consolidata per la bravura di tutti l'entusiasmo l'efficienza il senso di appartenenza che sentiamo tutti in questi eventi ma che sentiamo tutti perché ritengo lo facciamo tutti noi per primi parte di queste città e quindi lavoriamo insieme per il bene della nostra città ma vorrei veramente spendere qui due parole sulla cosa di cui forse sono veramente più fiera a che cosa stiamo collaborando noi stiamo collaborando al benessere del cittadino che cos'è Roma Roma è inutile dirlo è una città unica Roma costudisce una memoria importante l'hanno detto tutti basta guardare lì cioè è inutile che ce lo ricordiamo ma l'importante è che non sia custode della cultura l'importante è che sia divulgatore della cultura che la possa rendere fruibile a tutti e come la rendi fruibile? semplicemente facendo sentire tutti parte della città rendendo tutti responsabili di quello che la città fa Roma e a questo punto tutti fieri di quello che la città è collaboreranno insieme alle istituzioni a rendere questa città sempre migliore e quindi a che cosa stiamo collaborando? al buon esito dell'evento ma soprattutto al benessere del cittadino tramite che cosa? tramite la partecipazione a quella che è la vita culturale di questa nostra città stupenda come sempre ha detto la sindaca la città è la casa dei Romani e come tale la devono vivere per cui chiudo semplicemente facendo i miei complimenti a tutte le istituzioni coinvolte che hanno lavorato come sempre e lavorano come sempre al meglio ringraziando sicuramente l'amministrazione la sovraintendenza tutte le altre istituzioni e soprattutto tutte le persone che hanno quotidianamente stanno lavorando si stanno impegnando stanno facendo le notti perché questo sia veramente come sempre un evento eccezionale grazie a tutti signora sindaca allora grazie grazie davvero di cuore alle persone che sono oggi qui con noi e che rappresentano le istituzioni e rappresentano le squadre che come diceva la Presidente stanno lavorando in silenzio ma molto alacremente per far sì che tutto questo tra il 20 e il 22 diventi realtà ora il punto è questo io mi ricordo la prima volta che ci siamo visti in teatro e avevamo detto a me piacerebbe portare il teatro fuori da queste mura l'ho detto a lei l'ho detto al sovraintendente l'ho detto a varie persone e piano piano mi sembra che questo desiderio stia prendendo forma attraverso una collaborazione che poi magari parte da un'idea la trasforma la migliora la integra però questo lavoro che stiamo facendo insieme per costruire qualcosa che non c'è e non c'era prima ma sta piano piano iniziando ad avere una sua identità è l'esempio probabilmente migliore di come una città possa rinascere un po' da se stessa noi abbiamo sempre detto che non volevamo che Roma fosse un museo a cielo aperto Roma sicuramente ha degli scorci degli angoli bellissimi ha anche dei panorami che non sono né scorci né angoli sono veramente delle distese nelle quali noi possiamo perderci e rievocare i fasti e la storia passata però Roma è altro o comunque è anche altro Roma ha necessità di poter mostrare a tutti che può essere un laboratorio vivente e produttivo di iniziative di cultura di creatività di pensiero di ragionamento di comunità Roma è viva ed è viva perché non pensiamo solo a guardare indietro ma forti del nostro passato poggiando su solide basi proviamo a disegnare un presente un futuro che sia qualcosa di nuovo e che sia altrettanto grandioso è un'ambizione come dire un po' alta direi che però credo sia doverosa per l'amore che ciascuno di noi prova per questa città e quindi il lavoro che stiamo facendo e che talvolta può sembrare molto forse è un po' faticoso senza può sembrare è un po' faticoso lo so però è davvero credo fondamentale per far sì che Roma possa vantarsi di essere non solo come dire Caput Mundi lo era ma è oggi un'entità viva e pulsante e deve tornare a essere una guida a livello internazionale in tanti settori e credo che quello creativo culturale sia sicuramente un ambito nel quale noi possiamo insegnare e dobbiamo insegnare ancora molto grazie a tutti se ci sono domande non ci sono domande e siamo stati insensibili beh anche perché o li abbiamo tramortiti entrambi grazie grazie a tutti grazie a tutti